Gianna Ranini, io voglio te! E chi vogliamo al venerdì è ovviamente sempre sapere che cosa e dove andare a fare... Non c'era un italiano in questa frase, comunque vabbè, sto parlando della nostra rubrica del venerdì! Gli eventi della settimana a cui io non andrei! E buongiorno Eribi, buongiorno! Buongiorno e grazie mille per avermi dato questo spazio! Prego, perché sta... Non so, io ascolto tutti i giorni il tuo programma e tutti i giorni quando c'è un ospite dice queste cose, quindi ti ringrazio veramente per avermi invitata nella tua trasmissione! Cioè stai facendo del dissing verso i miei ospiti? No, non sto facendo del dissing, sto facendo del dissing verso di te! Ah ok, grazie, gentilissima come sempre! Allora, dove andiamo? Cosa facciamo? C'è la Pasqua? Ah, intanto oggi è il giorno più importante della Pasqua, ricordatevi questo! Mi raccomando, non essere blasfema! No, no, assolutamente! Però oggi si compie uno dei primi misteri, cioè la morte di Gesù! Sì, beh, andiamo... Non è tanto un mistero, forse l'unica cosa vera e reale... Ecco, già comincia! Però vabbè, comunque è importante ricordatevi di mettervi una sveglietta alle 15 per ricordare il momento in cui Gesù muore! Sì, che poi anche lì, vabbè, non ho mai capito, cioè alle 15 tutto il mondo non c'era il fuso orario! A me questo fa abbastanza ridere, appunto, per questo! Non c'era il fuso orario, cioè... Non c'era il fuso orario, però fa niente, fa niente! Vabbè, comunque... Io alle 15 lo farò! Se non mi fa ridere questa cosa, che hanno dovuto decidere, ma perché chi ha deciso quell'orario? Cioè, a me la Chiesa ha deciso! Non lo so, leggi la Bibbia e... Non credo ci sia scrippo! Non lo so, non so chi è che l'abbia deciso! Comunque... Vabbè, comunque... Comunque, allora, partiamo a cannone! Ok, allora, vabbè, è Pasqua! Gli eventi di Pasqua e Pasquetta non è che siano tantissimi, a parte qualche... Mi è sembrato di vedere che Trenno organizza... Si è organizzato molto prima per prendere le grigliette per Pasquetta, però non si sa se sarà bello o sarà brutto! Eh, non sarà facile! Secondo me, comunque, andate con dei teli! Sì, quello più facile! Teli anche plastificati! Sì, con tanti ombrelli! Ok, va bene, partiamo! A Senago, dal 31 al primo di aprile, quindi mi viene da dire Pasqua e Pasquetta, c'è la sagra di Pasqua e Pasquetta, che tu dici, vabbè, si mangeranno uova, bla 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 bla... Polinta e Zola? Beh, non so, vogliamo male! Broschette con il lardo e il miele? Mi piace! Eh, così! Un po' così, un po' montagnina come cosa! Visto il clima ci sta! Però Senago non è montagna! No, non è bianza! Niente, io non ci andrò! Bene, grazie! Però mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi ci va! Ma soprattutto Pasquetta, cioè Pasqua, scusa, Pasqua si fa con i tuoi, scusa! Sì, no, Pasqua con chi vuoi, Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi! Vabbè, comunque... Vabbè, questo l'hai già detto anche tu, che riapre il campo dei tulipani e anche nel weekend questo che è sicuramente ci sarà un sacco di gente, ma attenzione non è più gratis! Era gratis fino al 22 di marzo! A me il tulipano è il mio fiore preferito, però ho sempre visto negli ultimi anni troppa gente e quindi sai che io sono un po' agorafobica! Sì! Sì, che bella parola che ti ho tirato fuori! Quindi non ci andrà, mi dispiace per Irwin, Edwin, ma non ci andrà neanche quest'anno! Quindi stiamo parlando del campo di girasoli ad Arese? Di Arese, sì, sì, sì! Tulipani italiani? Comunque non è girasoli, ma sono tulipani! Ho detto girasoli, mi hanno detto, ah scusa, ma tulipani, scusa, ho sbagliato! Scusa, Edwin, ti ho fatto da olandese a romagnolo in un attimo, così! Stasera c'è una partita dell'Inter, ma non mi ricordo che cosa! Quindi amici che abitate vicini allo stadio, sclerate anche stasera, però io sono sicura che tantissimi di voi siano già in vacanza! Ma tenete lo sclero vivo, perché a Pasquetta c'è Inter Empoli alle 20.45! Come va a giocare stasera anche a Pasquetta? Gioca stasera e gioca a Pasquetta! Sei sicura? Assolutamente sì, perché credo debba recuperare qualcosa! Tu avanti intanto controllo se hai detto una castoneria o cosa! Invece, per gli amici che amano la musica da giovane, quest'oggi alle 17 alla Mondadori di Piazza Duomo c'è un amico di Ro, che si chiama Rove, che va a incontrare i fan e firma le copie dell'album che mi piace molto, che si chiama Popolari, è l'immagine della copertina dell'album e lui è affacciato davanti a una casa di ringhiera, molto bello, però io non c'andrò perché non mi interessa Rove! Ecco, poi andiamo avanti! Non sto trovando notizie della partita di questa sera! C'è, c'è, cerca qualcosa, c'è! Inter cosa? Inter qualcosa! Vueledì cosa c'è? Ho visto Inter Empoli! Sì, giusto, quello è giusto! Se invece, cari amici, volete andare via, vi suggerisco, visto che il periodo è quello pasquale, quindi dedicato, diciamo, alla spiritualità, G Bravo Travel, che è un'agenzia di viaggi... C'è Inter Roma, hai ragione! Ma alle 18.30? Sì, esatto! Proprio in pieno, Inter Roma... Quindi sclerate pure! Comunque, stavo dicendo che se invece volete andare via... Ma no, c'è il femminile oggi alle 18.30 di Inter Roma, il femminile! Sì, ma San Siro comunque! Ma non credo! No, 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 guarda che io ho visto dei cartelloni in mezzo... Allora, 331-78-53-555, aiutateci perché qui ne uno ne l'altro... Qui a Lorenteggio c'è una pubblicità enorme... No, le pubblicità che cambiano, ti dicono quando ci sono le partite, non sto scherzando, se vuoi che non ci piassi mai... No, non ci posso mai a Lorenteggio, mi spiace! Comunque, G Bravo Travel ti organizza a partire da oggi... Oggi è il 29, sì... Da oggi, al primo di aprile, un bellissimo pellegrinaggio a Lourdes! Ci vuoi andare? Oh, beh, dai, interessante! Io prima o poi ci andrò, ragazzi, adesso era impossibilitata, questo è un evento a cui non andrei perché questo è un po' un periodo caldo per la spiritualità, quindi se dovete andare a Lourdes ci andate in un altro momento che non siano feste. Ma è più interessante andare durante le feste, è il momento più bello dell'anno... La spiritualità si segue, non è che... Ho capito, ma è come dire, vado a Natale, è più bello che vado al 12 di febbraio, così a caso. Vado nel mese della Madonna, cioè più interessante che... E appunto, nel senso, cioè, no, vabbè. Va bene. Invece, a qualche passo da Milano, adesso ti chiedo un favore, mi vai a vedere quanti chilometri è San Martino Siccomario dal centro di Milano, per favore? Non è lontanissimo, eh! Che è provincia di Pavia, il titolo dell'evento era A due passi a Milano, c'è il villaggio delle uova, quindi dalle 10 alle 18, non era indicato il prezzo, potete portare i vostri bambini e c'è la caccia al tesoro delle uova. Chiaramente poi potete comprare uova di Pasqua a Cannone e divertitevi e sapete che dove ci sono i bambini io non ci sono. Ho gli ultimi due eventi... Sono 45 chilometri da San Siro, più o meno. Sono 46 minuti di macchina. Diciamo che se vuoi fare una scampagnata sono 100 chilometri, te. Va bene, è appena sotto Pavia, diciamo. Due passi dobbiamo rivederla, cara Milano Giudei, che cosa intendi? Vabbè, comunque, ho due eventi. Uno mi incuriosiva tantissimo al titolo, perché il titolo è Avanzi di Balera. Bello. Tu dove pensi che sia? Così proprio dico subito, Balera dell'Ortica. Anche io. E invece no. Al Barrios. Domani alle 23 c'è questa serata Avanzi di Balera, non lo so. È bella però. Però mi piaceva perché gioca anche un po' sugli avanzi. Eh beh, sì. Ah, non quello. Non so il fatto che sono degli Avanzi di Galera quelli che... Anche Avanzi di Galera, però l'Avanzi di Balera e se è il Barrios non puoi chiamarlo Avanzi di Balera. Cioè rubi tutti i titoli all'Ortica. Vabbè, peggio per quelli dell'Ortica. Un applauso a quelli del Barrios. Ok. Sempre, sempre Barrios. Infatti, tra Barrios e Ortica mi spiace. Perché ricordatevi una cosa, posso dirla? Puoi dirla. Barona padrona, sempre e comunque. Ecco, l'ha detto. Ecco. Finisco con una cosa che molto probabilmente a te piacerebbe. A me nervosirebbe. Perché non ci andiamo? Perché mi nervosisce. Ah, ok. Questa sera, ma comunque ce ne sono altre, vengono organizzate credo settimanalmente, al miscusi di Bocconi che è in via Leblighi e già questa roba mi fa ridere. O i Bocconi o i Brighi. A me sono di fianco. Comunque, c'è la cena cantata. Bello. Orca miseria. Perché? Perché o mangio o canto. Allora, non è che canti tu, canti con gli altri. Eh no. No, eh no. Cena cantata vuol dire che anche tu canti, mentre mangi. Io l'ho intesa così. Cioè, che sei lì che stai mangiando e canti. Ma hai detto primavera, sei fretta, c'era e poi ti strozzi. Ok, allora. Ho capito cosa succede. Allora, non c'è nessuna parita a San Siro stasera. Ma io... C'è l'Inter Roma femminile all'arena civica. Ok, va bene. Le 18.30. Grazie, grazie. Infatti mi sembrava strano che giocassero così a due giorni di distanza l'un dall'altro. Comunque in Terempoli c'è a posquetto alle 20.45. Quindi, anche se andate a fare la grigliata a trenno, ricordatevi che poi a un certo punto arrivano tutti quelli che devono parcheggiare. Eh sì, anche qua è vero. Comunque, volevo dirvi che questi eventi di questa settimana secondo me erano un po' spenti, ma per settimana prossima ne ho trovato uno fantastico. Hai già provato quella settimana prossima? Sì, sì, sì. Ce ne sono tantissimi in settimana prossima. E allora, appuntamento a venerdì prossimo con gli eventi della settimana a cui Erbino non andrebbe. Quindi, Fabio, io ti ringrazio tantissimo per avermi dato l'opportunità di parlare qua alla radio. Auguro a tutti una serena Pasqua. e mi raccomando, come dice il mio amico Andrea Variale, Mangiate tanto e bevete pure. Grazie mille e buona giornata.